Tra poco a Trieste la presentazione del villaggio Abruzzo alla Barcolana, la prestigiosa gara velica al via da mercoledì 7 ottobre. Presentato ad Atria l'auditorium Sant'Agostino il volume di Concezio del principio, una raccolta di poesie che fanno sorridere e riflettere. E buonasera in apertura alla pagina sportiva, lo avete sentito dai titoli, il villaggio Abruzzo alla Barcolana sarà presentato tra poco alla stampa presso la sala rossa della Camera di Commercio in piazza della Borsa a Trieste, dall'assessore con delega alle tradizioni locali della regione Abruzzo Donato Di Matteo, dall'assessore al commercio del comune di Trieste e di Carus, dalla consigliera della provincia di Pescara Annalisa Palozzo, dal vice prefetto di Trieste Rinaldo Argentieri, dal presidente della società Barcolana Mitja Galuz e dal presidente dell'associazione abruzzese a Trieste Gianfranco Bellante. Una vetrina eccezionale per la regione che avrà quindi la possibilità di far conoscere tutte le proprie eccellenze nella regata velica più importante d'Europa, giunta alla 47esima edizione in programma nel Golfo di Trieste da mercoledì 7 a domenica 11 ottobre. L'Abruzzo è l'unica regione ad aver allestito un villaggio di 2000 metri quadrati sul canale Ponte Rosso che potrà inoltre contare su un ristorante dove verranno serviti i migliori piatti della tradizione culinaria abruzzese e sull'allestimento di una mostra dei migliori pezzi dell'artigianato artistico di Guardia Grede. Inoltre ci saranno spettacoli ispirati alla riscoperta delle tradizioni del folklore, convegni, giochi, laboratori, stand dedicati alla promozione dei prodotti agroalimentari e a quella turistica e tanto altro ancora. La regione Abruzzo quindi promuoverà in maniera trasversale dal mare alla montagna, dall'entroterra alla costa, tutto il territorio regionale con più di 50 espositori. Pagina di cultura ed editoria è stato presentato ad Atria, all'auditorium Sant'Agostino, l'ultimo volume di Concezio del principio, una raccolta di poesie che fanno sorridere e riflettere, ispirate anche al tema della disabilità e noi ne abbiamo parlato con lo stesso autore. Concezio del principio, oggi la presentazione del tuo ultimo progetto editoriale, una raccolta di poesie in vernacolo dal titolo «On de preoccupa ci pensi?» Sì, «On de preoccupa ci pensi?» racchiude diverse composizioni dialettali che riguardano un po' lo spaccato della quotidianità, della nostra quotidianità, del vivere quotidiano locale. Sembrerà strano oppure, cioè molti non riescono ad osservare in modo adeguato il mondo che ci circonda. Ma se uno si estranea un po', io credo che la realtà superi l'immaginazione. Quindi, come avete sentito nelle poesie lette, c'è da riflettere e c'è da ridere anche per alcuni aspetti che noi abbiamo affidato all'abitudine e non ce ne rendiamo più conto. Una raccolta di poesie in dialetto che fanno sorridere e anche riflettere. Sì, questo ho voluto fare. Perché all'interno, a parte il fatto che il libro è dedicato interamente a mio figlio Daniele, affetto da disabilità grave, all'interno comunque tratto argomenti anche di diverso tipo, sia che riguarda la disabilità, la religione, il ceto sociale, il lavoro. Ma sempre in un modo non pesante, ma che arrivi al lettore in modo leggero, ma che lasci un po' quel senso di riflessione che si deve fare leggendo queste composizioni dialettali. Dobbiamo anche accennare ai tanti riconoscimenti che ti hanno visto protagonista per la poesia dialettale. Proprio in ultimo, dove? Falconara Marittima devo ricevere un premio speciale della giuria domenica 11 ottobre. L'ultimo, il precedente, a Brindisi, in provincia di Brindisi, per una poesia in dialetto che si intitola Senza Parla, che riguarda l'autismo. Questo per chiudere è un lavoro che sprona ancora di più ad andare avanti, a non arrendersi mai e che sa magari a far nascere per il prossimo futuro un altro progetto editoriale di poesia in vernacolo. La mia intenzione principale? Allora, il libro non ha nessuna pretesa come gli altri libri che ho scritto. Ha solo la volontà di portare avanti il discorso del dialetto che spero non finisca mai, perché la paura mia è questa, che prima o poi si finirà per non parlarne più. Quindi questo è il mio obiettivo. Il prossimo non so se si tratterà di un libro. Io sto lavorando, ho un sogno nel cassetto che è quello di fare una commedia dialettale. Non so se ci riuscirò, se sarò in grado di farlo. Però io una bozza ho cominciato a già metterla giù, quindi speriamo che aiutato da chi ne sa più di me possa portare avanti questo progetto e realizzarlo. E per quanto riguarda invece lo sport, la Gymnasium Audax Atria Calcio a 5 dimostra di voler fare sul serio e di non lasciare nulla al caso. E così dopo l'ottimo avvio di stagione dal punto di vista sportivo, con il passaggio di turno in Coppa e la vittoria all'esordio in campionato, prosegue nell'implementamento delle proprie collaborazioni per rendere la società ancora più ampia, forte e attiva sul territorio. È stata avviata proprio in questi giorni una nuova collaborazione con la Casa Madrester di Cerne di Pineto, che culminerà con un convegno sul tema dello sport e dell'integrazione che si terrà ad Atri nei prossimi mesi e sarà proprio curato dalle dottoresse psicologhe e psicoterapeute in gesta al psicosociale Adelaide Cellinese e Angela Franchi, che collaboreranno con il progetto Atri 2020 Crescere con lo Sport, unitamente alla dottoressa Alessandra Pavone e alla dottoressa Olga Del Rocino. E vi ricordo il Consiglio Comunale, una nuova seduta fissata per questa sera alle 19 in Piazza Duchi d'Acquaviva nella sala consigliare ad Atri, saranno 5 punti all'ordine del giorno. È tutto, grazie, buona serata. Grazie.